Siamo come polvere sopra i pensieri, come baci sulle labbra di ieri. Sono cellule che si addormentano. È come se andassero il letargo. Siamo come la paura di fronte alla determinazione. L'ha scritto un medico, un primario. È un metodo, una teoria, una cura alternativa alla medicina tradizionale. Come lacrime tra le pieghe di un sorriso. Conosco la teoria delle emozioni. Voglio metterla in scena. Devi dirmi, per punti, otto titoli. Otto situazioni della tua vita dove ti è vibrato veramente il cuore dalle emozioni. Pensare che un libro possa regalarti la vita è stupendo. Basta non aprirlo mai. No. 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 Grazie a tutti